Musica Ciao ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video di Imano Allora quanto mi sarò reso ridicolo nella prima parte del video Ragazzi io ho fatto questa intro perché siamo arrivati finalmente a 2000 visualizzazioni Ma non a 2000, 2190 Ragazzi cominciamo subito con il video di oggi Come avete letto dal titolo ragazzi oggi andremo a vedere oggetti schiacciati da una pressa Sì signor capitano Cominciamo subito dal video Allora si parte subito con Che è ragazzi? Ah è tipo quei giochi luminosi aspetta Ah sono quei giochi luminosi si Adesso questo qua tipo viene spappolato come Cioè appunto guarda tra poco esplode esplode Ragazzi non è esploso Ah ecco Ora è esploso Cioè è esploso dopo non prima dopo Madò che brutto Guardate come è diventato Che schifo Una sveglia L'ha spaccata con me Eh vabbè Allora ma dosca Ma come si ricompone guardate E questa è ceramica Esplode subito Appunto Adesso guardate come esplode tutto Lo sapevo Dei fogli raga dei fogli Secondo me Secondo me non arriva al fondo Sai però non so come potesse Ah vengono Ma che fego Oh neanche così Non li riesce a spaccare proprio Ok un profumo Non è durato una massa il profumo Guarda lì Vabbè vetro grazie Eh fai Prenditela con qualcuno La tua taglia eh Una mela raga una mela Secondo me questa qua Si diventa una Diventa stranissima Cioè dire è proprio una piadina Non so come dirlo No era pure su cosa Tra l'altro Guarda che roba Ci ha fatto un lago Cioè raga Ragazzi Schiuma la barba Che vabbè Cioè questo qua è veramente il suono Che io ho fatto Per descrivere sta cosa Ok Ragazzi la sfida del secolo Bottiglia di coca cola Versus Presse idraulica Stiamo pronti ragazzi Parte Attenzione Ok la parte sopra Vengamente va dentro Questo è sicuro Secondo me non esplode subito Anche essendo in plastica Secondo me non esplode subito Va giù Va giù Continua ad andare giù Sto tipo Ok ora sto per esploder Sto per implodere Sto per implodere Sto per implodere Sto per implodere Sto per di Ragazzi è esplosa Veramente Orca vacca però E niente ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando ragazzi Supportatemi lasciando un bel like Sotto a questo video Iscrivendovi E attivare la campanellina Mi raccomando Condividete il video Con tutti i vostri amici Se sapete che alcuni Vostri amici Vi piacciono questi giorni Ai video Condivideteli mi raccomando Noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao ragazzi